I carabinieri della stazione di Ischia hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo e di denaro di beni emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di tre indagati ritenuti a vario titolo responsabili di furto aggravato, accesso abusivo ad un sistema informatico, frode informatiche aggravate e riciclaggio. Le indagini sono state avviate dalla stazione di Ischia in seguito alla denuncia sporta nel dicembre 2018 da un 66enne che dopo un lungo ricovero ospedaliero si era accorto della sottrazione di tutte le somme dal proprio conto corrente svizzero. I successivi accertamenti bancari e patrimoniali eseguiti anche in collaborazione con la Polizia svizzera attraverso rogatore internazionale hanno permesso di documentare che uno degli indagati, dopo aver sottratto le chiavette per l'accesso all'home banking di proprietà del denunciante, si è introdotto abusivamente nel relativo sistema informatico e ha disposto vari bonifici in favore di conti correnti italiani e svizzeri per 162.000 euro. Gli altri due indagati in concorso tra loro dopo aver ricevuto un bonifico sul conto corrente italiano hanno eseguito altre operazioni bancarie ed economiche al fine di ostacolare l'individuazione della provenienza illecita delle somme. Nel corso dell'operazione sono stati eseguiti tre decrediti per acquisizione personale domiciliare estesi anche nei confronti di società riconducibili agli indagati.